il suo fu un gioco davvero astuto niente da dire al mattino non la vedevo mai ero troppo preso dai miei infiniti impegni burocratici cominciavo le sedute coi pazienti lei compresa solo nel pomeriggio e a quel punto mi diceva la voce era svanita e il suo equilibrio molto meno precario di fatto riuscivamo a parlare di charlie con più calma e stella sdrammatizzava e mi lasciava abbondantemente vedere che stava sdrammatizzando prima di passare ad argomenti più piacevoli ad esempio il nostro matrimonio il nostro matrimonio era chiaramente un'idea che continuava a divertirla e tutte le volte che vi accennavo rideva come di una battuta particolarmente spiritosa le battute almeno prima avevano avuto un ruolo importante nella nostra amicizia e questa anche se io sembravo non considerarla tale era la più divertente di tutte stella aveva sempre creduto che io fossi omosessuale lo sapevo bene doveva pensare adesso magari lo è magari più che un matrimonio nel vero senso della parola peter mi sta proponendo una sistemazione con i suoi terapeutici si immaginava la mia casa il mio giardino e credo che senza neppure accorgersene cominciasse ad anelare di andarvi perché significavano tutto ciò di cui in fondo aveva bisogno pace eleganza comodità improvviso sentiva di volere disperatamente la vita che le avevo offerto adesso la mia unica preoccupazione era che cambiasse idea per la prima volta da anni mi sorpresi a provare un filo di sicurezza immaginavo stella pensare tutti i giorni peter peter a colazione a pranzo e a cena io e lui sotto lo stesso tetto a condividere le stesse stanze tutti i giorni che dio manda in terra ma subito mi assicuravo non poteva non rendersi conto pensavo che la vita con me sarebbe stata sotto il segno del divertimento colto e sofisticato sapeva di non dover temere la sinistra scoperta di laide abitudini piccole crudeltà durezza impreviste sapeva che sono una persona civile sì si poteva vivere con me ma sapeva un po meno come sarebbe stato venire a letto con me questo era un campo che riservava immancabilmente sorpresa e di rado piacevoli riuscì a farmi credere che avrebbe potuto essere all'altezza delle mie aspettative riuscì a farmi credere che mi avrebbe fatto felice conquistando al tempo stesso per sé un minimo di serenità non sarebbe stato difficile visto il tipo di uomo che ero e anche perché no quello che possedevo il benessere rende tutto meno degradante mi disse avevamo visto entrambi che cosa succedeva in un ambiente squallido l'amore ardeva certo ma di un fuoco tremolante sempre sul punto di spegnersi un amore come quello che stella aveva vissuto non avrebbe mai trovato posto nel tipo di vita che contemplavamo era un inferno in confronto al raffinato tepore che noi due intendevamo tener vivo credevo pensassimo entrambi che quelle emozioni violente tendono per loro natura a divampare senza freni per poi estinguersi dopo aver divorato ciò che le aveva alimentate in ogni caso tutto questo ormai era finito o comunque stella riuscì a farmelo credere quando mi disse di aumentare la dose di sonnifero le risposi che sarebbe stata molto meglio senza sedativi e che continuando a rimuovere i sogni avrebbe bloccato un materiale inconscio di cui aveva invece assoluto bisogno per elaborare la morte di charlie stella si spaventò moltissimo tanto ad arrivare sul punto di gridarmi non c'è niente di rimosso ma ricacciò il grido in gola disse invece che siccome di giorno i ricordi non abbandonavano neppure per un attimo sperava le venisse concessa una tregua almeno durante il sonno come vuoi le risposi non insistetti su quel tasto non la forzai purtroppo non detti neppure molto peso alla richiesta e naturalmente avrei dovuto in tutto questo infatti un dato mi sfuggì e cioè quanto le costasse recitare attannagliata com'era da un dolore implacabile che non le dava tregua e di cui io concentrato solo ed esclusivamente sul senso di colpa non colsi la vera natura decisi di non aumentarla i sonniferi le dissi che la dose era già abbastanza alta non la vidi per parecchi giorni a luglio le avevo detto adesso eravamo alla fine di maggio mancavano ancora cinque o sei settimane le giornate di stella erano sempre le stesse ogni mattina si vestiva con estrema cura passava a prendere un libro in biblioteca se lo portava nella sala comune e si metteva a leggere vicino alla finestra a meno che una delle altre non attaccasse discorso rimaneva distante composta gentile triste una paziente che sta per uscire viene trattata da tutti in modo molto particolare intorno a questo strano ibrido non più una malata non ancora una donna libera finisce sempre per crearsi un'aurora di pacata celebrazione perché una paziente che esce è motivo di vanto per il personale e di speranza per le sue compagne stella era in ospedale da poco ma aveva sempre cercato di conservare la sua dignità guadagnandosi così il rispetto generale le altre le facevano gli auguri e quando le chiedevano dei suoi progetti lei rispondeva che avrebbe vissuto a londra con la famiglia di sua sorella e se anche qualcuno si era chiesto perché nessun membro di quella famiglia fosse mai venuto a trovarla aveva tenuto quel dubbio per sé stella dal canto suo non mi domandò nulla sull'autorizzazione necessaria al nostro matrimonio ogni pomeriggio me la portavo in ufficio e in quella stanza grande e confortevole passavamo un'ora a discutere dei nostri progetti passati nel frattempo da un matrimonio in forma strettamente privata a un viaggio di nozze in italia dove intendevo mostrarle Firenze che conoscevo bene e Venezia che conoscevo meno avevamo deciso di partire fino a settembre quando fa meno caldo e i turisti sono tornati a casa poi avremmo cominciato la nostra convivenza o meglio la nostra rarefatta comunione spirituale un pomeriggio le dissi di non condividere l'opinione corrente secondo cui il matrimonio risolve il problema del sesso per me il matrimonio o almeno il matrimonio come lo intendevamo noi risolve il problema della conversazione ma stella come vedeva la prospettiva di un matrimonio fondato sull'amicizia sembrava anche a lei che avrebbe risolto il problema della conversazione io credevo di sì credevo che a questo pensasse quando sedeva sulla sua panchina vestita di scuro con quell'aria di malinconica rassegnazione perduta nei calcoli del suo cuore non trascuravo affatto l'ospedale al mattino partecipavo alle riunioni e sprigavo le pratiche nel pomeriggio mi occupavo dei casi che seguivo di persona visto che stavo per andare in pensione volevo preparare i pazienti alla mia partenza solo uno di loro mi dava qualche serio motivo di preoccupazione edgar che ovviamente era da noi dove altro avrebbe potuto andare era qui da subito dopo la sua cattura a chester mi restava ancora un punto da chiarire e cioè se avesse seguito stella per portarla via o per ucciderla lo tenevo in una stanza all'ultimo piano in isolamento ma non era come potrebbe sembrare una misura punitiva non sappiamo ancora molto circa i suoi spostamenti dopo la fuga di stella da horsey street ma spero che presto avremo qualche dettaglio in più di sicuro edgar aveva passato altri tre giorni nel sottotetto lavorando senza interruzione alla testa al quarto giorno pareva che qualcuno non è ben chiaro chi fosse venuto a dirgli che la polizia era sulle sue tracce edgar aveva cacciato in una sacca qualche vestito un paio di libri ed era scappato qualche minuto prima dell'arrivo dei poliziotti e per colmo di ironia del ritorno di stella i poliziotti avevano posto sotto sequestro l'intero contenuto dello studio e in seguito mi avevano convocato chiedendomi di aiutarli a capire se in mezzo a tutta quella roba ci fosse qualche indizio utile per rintracciare il mio paziente erano parsi interessati soprattutto ai lavori che edgar aveva fatto nei giorni della convivenza con stella cioè i disegni e naturalmente la testa aveva lasciato tutto lì dopo la fuga edgar era letteralmente scomparso risucchiato riteniamo dal sottobosco di artisti e delinquenti che lo aveva nascosto e mantenuto nelle sue settimane successive eravamo convinti che si spostasse in continuazione da uno studio all'altro da un appartamento all'altro e a me sembrava quasi di vederlo un omone barbuto col giubbotto il bavaro alzato e il berretto sugli occhi che si presentava alla porta degli amici nel cuore della notte chiedendo ospitalità verosimilmente con una certa apprensione da parte delle loro mogli si era giunta una segnalazione dalla cornovaglia dove pareva vivesse in un cocktail in riva al mare ma secondo me non si era mai allontanato da londra che conosceva come le sue tasche almeno fino a quando non aveva deciso di andare da stella quanto a nick fu fermato per un interrogatorio e rilasciato su cauzione era figlio di un giudice edgar era stato riammesso in ospedale in aprile ed allora si era sempre rifiutato di parlarmi fosse stato per me non l'avrei certo tenuto palanguire in isolamento ma non mi dava scelta francamente era una bella seccatura prima di affidarlo a qualcun altro mi serviva un profilo psichiatrico completo in base al quale consigliare al mio successore una strategia terapeutica sapevo che alla fine avrebbe ceduto avrebbe avuto a che fare con tipi anche più duri di lui e in genere bastava aspettare ma adesso non avevo tempo così provai a dirgli senza particolari precauzioni del mio fidanzamento con stella fu brutale e anche aggressivo volevo costringerlo a reagire eravamo in una stanzetta del suo reparto una cella nuda con le pareti dipinte di verde un'unica finestra con le sbarre un tavolo massiccio tutto ammaccato e un paio di seggiole di legno edgar era chino sul tavolo dove faceva rotolare pigramente una sigaretta avanti e indietro portava la divisa grigia dell'ospedale ma senza cintura e senza stringhe gli avevano tagliato i capelli e la barba era dimagrito di qualche chilo e sembrava meno sicuro più giovane e stranamente vulnerabile non era l'edgar arrogante che conoscevo quello che avevo davanti era un uomo ombroso debole e infantile osservavo attentamente aspettavo che ricominciasse a parlarmi ma non solo volevo saperne di più dei suoi attuali sentimenti per stella e chiarire una volta per tutte per quale ragione l'avesse seguita fino a chester si mise lentamente a sedere e vi dire emozioni risentimento ironia incredulità passagli sul viso come una folata di vento sull'acqua